Ognuno di noi conosce che quando siamo in grazia, quando siamo consapevoli di essere in amicizia con Dio, quando sentiamo nel nostro cuore non soltanto questo che Dio ci ama, ma anche che noi lo amiamo perché siamo sicuri di avere la sua vita dentro di noi. Quando sentiamo la forza e il coraggio di essere figli di Dio, quando sentiamo la compagnia e la forza dei doni dello Spirito Santo, allora le cose sembrano più facili, ma come fare perché Dio rimanga sempre al nostro fianco? Come fare per restare sempre in presenza di Dio? Come fare per poter mantenere, diciamo così, questo ottimismo che non è un ottimismo sciocco, ma un ottimismo autentico, un ottimismo, se vogliamo così chiamarlo, un ottimismo realistico di colui che sa che insieme a Dio può tutto, insieme a Dio possiamo fare tutto, è qualcosa di meraviglioso. Come fare per mantenere questo ottimismo durante tutta la vita? Bene, Gesù stesso dice qualcosa che ci può essere di strada, di cammino, di aiuto, una pista sulla quale possiamo, diciamo così, camminare. E il capitolo 8 di Giovanni sta parlando il Signore con i giudei, è una di queste discussioni riguardo in definitiva la sua natura divina. E il Signore dice qualcosa di molto forte, di molto bello. Dice, colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. Vedi, ripetiamo la frase, dice, colui che mi ha mandato, cioè si sta riferendo a Dio Padre, Dio Padre non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. Allora, anche noi, se vogliamo avere Dio al nostro fianco, dobbiamo sforzarci per fare sempre le cose che sono gradite a Dio. Ricordo molto bene come San José María Scrivá, il fondatore dell'Opus Dei, scrisse in questo bellissimo libro di Cammino, che ci sarà anche per noi il giorno del giudizio, ci sarà il giorno nel quale ci dovremo presentare a rendere conto della nostra amministrazione davanti a Dio. E allora San José María un po' ci spingeva e ci diceva, non ti piacerebbe che quando arrivi il tuo turno, quando arrivi il momento del tuo giudizio, il tuo Padre che nel cielo deve, diciamo così, diventare contento, deve accontentarsi perché ha trovato qualcuno che ha cercato di fare la sua volontà. Sono parole molto belle, parole che ci aiutano a capire qual è la strada che dobbiamo percorrere. Dobbiamo cercare di piacere a Dio in tutto, dobbiamo cercare di farlo contento. È una parola anche molto umana, ma molto divina. Che Dio sia contento quando ti debba giudicare, che Dio sia contento perché sì, vedrà le tue battaglie, la tua lotta. È come quando vediamo un buon film di questi diciamo che finiscono bene, un film di azione nel quale ci sono state tante trappole, tante situazioni difficili, ma alla fine l'eroe è riuscito a cavarsela ed è riuscito a vincere e a sistemare tutto. E uno finisce il film contento perché sa che quello ha vinto malgrado tutte le difficoltà per le quali ha dovuto attraversare. E così sarà il giorno del tuo giudizio, così sarà il giorno del mio giudizio con la grazia di Dio, se cerchiamo di mantenerci anche noi al fianco di Dio. E così, se cerchiamo di gradirlo, di contentarlo, di fare la sua volontà, la nostra vita sarà un bellissimo film che Dio Padre guarderà con tanta tanta gioia e che servirà anche ad altre persone di incoraggiamento per farli capire che questa vita può essere difficile, ma con l'aiuto di Dio abbiamo tutta la grazia necessaria affinché tu e io possiamo essere santi nel bel mezzo della vita quotidiana. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!